Il treno regionale, 4880, di Trenitalia, proveniente da Novara, e diretto a Domodossola, delle ore 5.52, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cressa Fontaneto, Borgomanero, Gozzano, Orta Miasino, Pettenasco, Omegna, Omegna Crusinallo, Gradellona Toce, Orna d'Asso, Cuzzago, Premosello Chiovenda, Vogomio-Ossola, Pieve Vergonte, Piedimulera, Pallanzeno, Villa d'Ossola. Il treno regionale, 10-3-7-5, di Trenitalia, proveniente da Domodossola, è diretto a Novara, delle ore 6.57, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10-3-7-6, di Trenitalia, proveniente da Novara, è diretto a Domodossola, delle ore 6.58, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Batrio d'Agogna, Suno, Cressa Fontaneto, Borgomanero, Gozzano, Bolzano Novarese, Orta Miasino, Pettenasco, Omenia, Omenia Crusinallo, Gradellona Toce, Orna d'Asso, Cuzzago, Premosello Chiovenda, Vogomio-Ossola, Pieve Vergonte, Piedimulera, Pallanzeno, Villa d'Ossola. Il treno regionale, 10-3-7-7, di Trenitalia, proveniente da Domodossola, è diretto a Novara, delle ore 7.36, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Caltignaga. Il treno regionale, 47-96, di Trenitalia, proveniente da Novara, è diretto a Borgomanero, delle ore 14.39, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cressa Fontaneto. Il treno regionale, 48-95, di Trenitalia, proveniente da Borgomanero, è diretto a Novara, delle ore 18.27, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Caltignaga. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.